La società di navigazione Caronte Turist avrebbe percepito indebitamente contribuzioni pubbliche nel periodo 2016-2019 per oltre 3 milioni e mezzo di euro e quanto emerge dall'inchiesta della procura di Messina che ha portato al sequestro di tre traghetti della compagnia di navigazione di beni per 3 milioni e mezzo di euro, cifra corrispondente alle sovvenzioni intascate illegittimamente. La nave Pace, per l'accusa, presenta gravi carenze tecniche strutturali che la rendono inidonia a trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta. Le indagini avrebbero inoltre consentito di riscontrare l'avvenuto ricorso a sostituzioni irregolari del traghetto designato per la tratta Trapani-Isola Egadi. Ulteriori ispezioni delle navi con l'intervento di ingegneri navali hanno confermato l'ipotesi investigativa iniziale sgombrando così ogni dubbio circa l'inidonietà di tutti e tre i traghetti e sul conseguente concreto rischio per l'incolumità delle persone a mobilità ridotta.